Un incubo durato mezz'ora per una donna che recatasi nel poliambulatorio di maglie ha preso l'ascensore all'interno della struttura ed è rimasta intrappolata nella cabina. Momenti di panico dalle 11 a mezzogiorno circa, quando la zona è stata colpita da un blackout. Se per le sale operatorie non c'è stato alcun problema, grazie al gruppo di continuità, non si può dire che sia andata allo stesso modo nelle altre zone rimaste isolate. Una donna sulla sessantina è rimasta chiusa nel piccolo ascensore al buio perché senza la luce d'emergenza ed ha iniziato ad urlare in preda al panico. È stato l'immediato intervento di alcuni collaboratori che hanno scardinato la porta dell'ascensore obsoleto e non sicuro perché ha evidentemente gli stessi anni della struttura a consentire i soccorsi. Una situazione per la sfortunata paziente tornata alla normalità all'arrivo dei vigili del fuoco sul posto. I soccorritori sono stati allertati da qualcuno, nonostante, stando a quanto ci è stato riferito, un dipendente abbia sconsigliato di fare intervenire i caschi rossi ed abbia invitato ad attendere l'arrivo dei tecnici. Insomma, un'altra storia che ha dell'assurdo ed una situazione che richiede un intervento attento e urgente di tutti i livelli istituzionali.